E con quali vi piacerebbe collaborare qualora ci fosse la possibilità? Non possiamo tanto rispondere a questo? No, nel senso, poi capirete perché. Però, sì, no, ce ne sono tantissime. Donne che fanno musica oggi, per fortuna sono aumentate rispetto alle donne che fanno musica e che producono anche, suonano strumenti, sono aumentate rispetto al passato perché la quota, diciamo, rosa si è alzata anche nelle file, non solo come cantanti ma anche come addette ai lavori e tecniche. Che è una cosa un po' difficile da trovare, no? Io, per esempio, siamo stati a Stoccolma l'altro giorno, abbiamo fatto per il disco nuovo delle cose e al banco, che è una cosa abbastanza inedita, al banco, diciamo, al mixer che era un mixerone grosso, un solid state bello, potente, una macchina come se... La Ferrari dei banchi, era impressionante vedere una donna al comando e altre due di fianco assistenti. Tre donne in studio, cosa che io non avevo mai visto prima. Ecco, lo vedi oggi, i giorni d'oggi capita anche questo e questa è una cosa bellissima perché di solito, insomma, la parte tecnico-tecnologica è sempre appannaggio del mondo più maschile. E quindi è segno dei tempi che cambiano, per fortuna, e di donne ispiranti oggi ce ne sono tantissime. Io non me la sento in particolare di fare dei nomi, ma insomma, quelle del panorama oggi sono tante, sono belle e sono piene di grinta e belle nel senso più ampio del termine, nel senso che oggi c'è anche questa attenzione in più al fatto di stare attenti a classificare le persone o a discriminarle per il corpo. Oggi c'è molta più varietà anche di corporature, di fisicità differenti, cosa che una volta, devo dire che ai nostri tempi non era tanto così. No, era molto riuscita. Cioè, un po' di anni fa c'era molta più discriminazione sulla... Quasi non ci si ne rendeva nemmeno conto. No, era talmente scontato il fatto che bisognasse aderire a certi canoni che quasi non ci si chiedeva se fosse giusto o meno. E questo è anche un segno, perché a volte si parla sempre male dei tempi che corrono, si pensa sempre più, però prima era meglio. E non si riesce mai a pensare a quanto prima alcune cose fossero fondamentalmente molto sbagliate. E invece di queste cose bisogna rendersi conto. Quando le cose sono giuste nei tuoi tempi, devi riconoscere anche quelle che sono giuste e quelle che invece sono meno giuste del passato. Grazie Riccardo per la tua domanda. Abbiamo un po' divagato, però spero che abbiamo risposto. In qualche modo, dai, dai, dai. Poi capirai perché non ti posso rispondere proprio a me. C'è qualcosa che bolle in pentola, evidentemente, evidentemente. Intanto c'è la musica...